ciao e benvenuti sul mio canale jessica a s m r come state spero bene allora da come avrete potuto notare dal titolo e dalla fotocopertina oggi sono qui con un video in realtà molto semplice nel gil in cui farò esclusivamente kiss sound e tico tico ho fatto già una volta forse o due nel corso dei mesi e degli anni qua sul tubo dei video appunto dedicati solamente al suono dei bacini e al tico tico vi erano piaciuti un sacco quindi sono qui dopo un'infinità di tempo per portarvi in un altro spero che vi piaccia come sempre prima di iniziare con il video vi ricordo che se volete farmi un regalino per supportare il canale o magari anche in vista del mio compleanno che sarà il primo maggio trovate il link della mia wishlist di amazon qui sotto nell'info box quindi se volete andare a dare anche solo un'occhiata trovate tutto qui sotto io direi di non perderci in altri chiacchiere e di iniziare subito 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 con il video che hai? perfecto, perfecto, perfecto è un'occhiata di un'occhiata buoncchi 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 C'è il nostro corso gratuito. Tico 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 ossia sols tico 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 dico Для 皆さん Tico 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 korakura Coraning Coricoricoricoricoricoricoricoricoricoricoricoricoricoricoricoricoricoricoricoricoricoricoricoricoricoricoricoricoricoricoricoricoricoricoricoricoricoricoricoricoricoricoricoricoricoricoricoricoricoricoricoricoricoricoricoricoricoricoricoricoricoricoricoricoricoricoricoricoricoricoricoricoricoricoricoricoricoricoricoricoricoricoricoricoricoricoricoricoricoricoricoricoricoricoricoricoricoricoricoricoricoricoricoricoricoricoricoricoricoricoricor C'è il nostro corso gratuito. C'è il nostro corso gratuito. nulla Dico 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 D a me dispiace raga perché facendo così tanti video vi giuro raga in sei giorni sto registrando tantissimi video per riempire letteralmente marzo ok perché appunto volevo tornare proprio col botto e caricarvi tantissimi video però per caricarli devo anche registrarli registrandone così tanti uno dietro l'altro io voglio registrarli caricarli programmarli registrare caricarli programmarli ovvio che sono proprio obbligata mi metto lì ad editarli a tagliare eccetera però io preferisco fare i video così perché sono cioè molto più veloce anche da fare ne posso fare di più però capite che se ogni volta in 10 minuti che mi metto c'è una chiedita faccio video di 10 ore 10 minuti si mette la gente a urlare i bambini l'elicotteri l'aeroplani e i cani cioè veramente questo qui è uno che ogni volta lascia libero il cane e il cane non capisce niente perché non gli hanno insegnato niente e puntualmente si mette a fare tutto il giro del condominio con il cane slegato che non ascolta niente e lui che urla e li va dietro appresso per appunto farsi ascoltare io dico tienilo legato o non ti fare tutto il giro del condominio santa pace ma vabbè comunque aprendo aperta e chiusa questa parentesi perché veramente raga cioè non ce la faccio è il quarto o il quinto video che registro oggi non mi ricordo neanche più cioè dai cavolo un po' di silenzio comunque torniamo al nostro tico tico ai nostri bacini al nostro tico tico ai nostri bacini sperando se ne sia andato tico 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 t Ticko 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 Un pezzo il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info niente raga questo era il video scusate se per una parte un po' caotico ma vi giuro non fa niente spero comunque che vi sia piaciuto lasciate un commentino un like iscrivetevi al canale attivando la campanellina per non perdervi le notifiche dei prossimi video io vi mando tantissimi makebacioni vi auguro una buona e stupenda notte ci vediamo alla prossima ok buonanotte 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 buonanotte